Il sole si vede di giorno e la pioggia cade dall'alto verso il basso. E se fosse vero il contrario? Chiede la 59 Fiera dei Librai, dedicata all'immaginazione. Il marchio della manifestazione un'arcopagina, richiamo ai portici del centro piacentiniano dove si tiene la fiera, non c'è da cui il lettore accede a un mondo di fantasia, tuffandosi sotto la superficie della pagina di un libro. Ed ecco che il sole illumina la notte e la pioggia sale dal basso, come stampato sulle locandine e sui libretti che raccontano il ricco programma, dal 21 aprile al 6 maggio oltre 100 incontri con l'autore, aperitivi fuori fiera per conversare a tu per tu con gli scrittori nello spazio UbiCity, proposte animate, letture e laboratori per bambini, appuntamenti dedicati al mondo della scuola, una mostra fotografica sulle minoranze linguistiche, allestita nell'ex albergo diurno, novitù dell'anno. Per la prima volta la fiera ospita incontri con gli autori in quello che fu un rifugio antiaereo e dopo la seconda guerra mondiale ospit negozi, bagni pubblici, barbiere e biliardo. Si parte oggi alle 18.30 all'auditorium di Piazza della Libert con un'anteprima, la presentazione del romanzo Mio caro serial killer di Alicia Jimnitz-Bartlett, con cui dialogher l'assessore alla cultura Nadia Gisalberti, per cui leggere il migliore strumento per aumentare il patrimonio di conoscenza di una comunit. Tra i nomi di spicco dell'edizione, dislocata tra Sentierone, quadriportico, auditorium di Piazza della Libert, Rosella Postorino, attesa il 21 aprile con Le Assaggiatrici, edito da Feltrinelli. Nello stesso giorno Mimmo Franzinelli e Giorgio Vasta parleranno di Novecento tra storia e letteratura. Il 23 Jacopo Barison e il regista Daniele ci permetteranno in relazione parola scritta e cinema, il 27 Corrado Augias presenter questa nostra Italia, il 28 Jan Bracken con Bagliori di San Pietroburgo invitan in un viaggio nel tempo tra filosofi, intellettuali e artisti, Tiziano Scarpateso il 25 aprile con gli amici Romano De Marco e Raul Montanari. Il 26 Andrea Marco Longo, fino al 2014 Goturiter di Matteo Renzi, presenter la misura eroica. Il 2018 un anno 501 ricorrenze e se ne ricorderemo alcune, come il 68 e il caso Moro, dice Ornella Bramani, direttore artistico della fiera. Così il 26 aprile Marco Damilano dell'Espresso illustrere il nuovo libro Un atomo di Verit. Aldo Moro e la fine della politica in Italia. Loris Campetti parler di operai e precariat. Il 29 si terrà un omaggio a Liliana Segre, ricordata nel libro come una rana d'inverno di Daniela Padoan, e si parler di il 68 con Guido Viale. Il 2 maggio Cristina Comencini racconta risentimenti delle crisi matrimoniali in da soli, mentre Valentina Giordano parler di i genitori perfetti non esistono. Manuale per madri e padri liberi dall'ansia e bambini felici. Il 3 maggio Andrea Moro presenter il primo romanzo Il segreto di Pietra Mala, il 4 Alessia Mosca rifletter su globalizzazione e innovazione, mentre il 5 Piero Fassino presenter il suo libro P.D. Davvero e Roberto Napoletano parler della grande crisi italiana. Diversi degli incontri nascono grazie alla collaborazione con associazioni quali Bergamo Scienza, Cavaliere Giallo o il Premio Nazionale di Narrativa Bergamo, che il 28 aprile, in auditorium, ter la cerimonia di premiazione. Grazie a tutti.